In maniera nostra vinta a compartire con il nostro televidente in un anno l'equipo di produzione di 30 alerta di fiesta e a cui dia promedio di aprile celebra il 90-dia di anniversario e in connexione che celebra sono grandi a qui già sabrò ottenuto un evento speciale e adesso in sua agenda viene a tomar tempo per sentire con noi e compartire i dettagli di evento a qui Sì, in due parti la prima parte di annoci è che il cocktail è che il nostro patrocinatore e il nostro thank you è un anno nel momento è che il nostro bilancio è interessante nel caso di una produzione non voglio che non si cominciamo pronto con noi un è un giornale e un altro è un reality TV series e in questo è un produzione di oggi e un link fuerti di un'idea e il cocktail event è terminato e il despedito è un'open bar event è un'opportunità di un concerto di BPM BPM sta accorto per Beats Per Minute BPM sta invocare di 4 nomi di un'industria musicale attuale con Jayon, Biggie Boy Ata Niro, Gianniro Aizen Fellow, Michael Lamp e anche Aldrich Buchhout di Nuts Beats Segui in vita, in carriera musical, internazionale e local sta facendo la triba su messa Poi in una produzione semanale è The Bomb Mi ricche di che non si può andare a wrong per i vieti che è molto divertente e ho avuto l'opportunità di via attraverso di persone che qui ma come in vita ma anche in behind the scenes o che è un'opportunità di behind the scenes è un'opportunità di fare e vento da già sabbra ora e da toma il luogo nei ex brinci se copo da limitare se bocca forma parte e sta entri è unico do c'engennera per esperienziar algo unico buona essere passata a TV offre gli ischia e comprobarci nei valori di 75 florin e fondo ricorda e annoce lo vai pa' fondazione Aruba Television Youth Academy guac pa' buono perde è sacchi grazie